Io credo che la ricerca che nasce dalla curiosità umana, come è stato detto qui, debba essere un percorso di condivisione e collaborazione a tutti i livelli. Noi come industria privata vogliamo fare la nostra parte e la stiamo facendo direi anche egregiamente. Noi abbiamo dimostrato già nell'ambito produttivo che siamo l'app farmaceutico europeo, abbiamo tutte le potenzialità per esserlo anche nella ricerca. Sono aumentati gli investimenti in ricerca nel nostro paese del 15% negli ultimi due anni da parte privata. Abbiamo 7.000 farmaci in sviluppo, abbiamo 45 nuove approvazioni che staranno arrivando sul mercato, di cui una ventina addirittura per le malattie rare è un numero superiore di origini biotecnologiche. Quindi la ricerca da un punto di vista privato è viva. Che cosa ci serve? Allora, ci serve intanto, come sempre, la condivisione. Noi abbiamo già iniziato, stiamo lavorando bene, credo, con AIFA, il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità. Abbiamo organizzato anche un evento perché sta arrivando un nuovo regolamento europeo. Noi abbiamo la possibilità, tra l'altro, di aggredire 100 miliardi di investimento che fa il privato nella ricerca. Ed è un peccato non portarli in Italia. Anche se, devo dire, in Italia la percentuale di ricerca che facciamo rispetto all'Europa sta aumentando. Lo dicono i dati AIFA, siamo passati dal 16% a oltre il 18% nell'ultimo anno. Quindi questo è un dato sicuramente positivo che mi lascia ben sperare. Abbiamo bisogno però anche di regole un po' stabili, di attrattività, di aspetti regolatori che aiutino la ricerca. Tempi di approvazione rapidi, in modo tale da non arrivare dopo gli altri paesi europei. E non ultimo, lo ha detto bene il sottosegretario De Vincenti, di una governanza che renda attrattivo il paese, e renda attrattivo il sistema paese perché noi ogni anno abbiamo questo ormai cappio del payback che ormai non regge più in questo paese. Perché? Perché ci vede elargire miliardi di euro per l'inefficienza sanitaria quando sarebbe più utile che questi miliardi noi li utilizzassimo per ulteriori investimenti in ricerca.